Ho aspettato volontariamente un po' prima di portarvi la recensione di Samsung Galaxy Watch 5 Pro che, lo dico subito, è indubbiamente il miglior smartwatch Android o meglio Wear OS in circolazione. C'è poco da dire, la concorrenza non è tantissima, almeno nel mondo Android, l'unico principale rivale è ovviamente Apple Watch, che però se volete cambiare così drasticamente dovete cambiare anche ecosistema perché Apple Watch non è compatibile ovviamente con smartphone Android così come questo Watch 5 Pro non è compatibile col mondo iPhone, quindi due mondi contrapposti che proprio non si riescono praticamente a toccare. Detto ciò, Samsung ha fatto un altro bel lavoro, ha tra l'altro razionalizzato un po' l'offerta, questo è il Watch 5 Pro che è disponibile in un'unica misura, poi c'è il Watch 5 disponibile in 40 e 44 mm, sicuramente un po' più leggero, un po' meno resistente perché questo è assolutamente ultra resistente, ma soprattutto il prezzo su Amazon è già corollato di oltre 130€, quindi dubbiamente ora è arrivato il momento di parlarne anche in vista di un possibile acquisto prossimamente durante magari il Break Friday. Iniziamo! Esteticamente non lo definirei lo smartwatch più bello in circolazione, ma perlomeno si differisce dal principale competitor per avere un aspetto di forma circolare e non squadrato. Il display è di tipo AMOLED, 1,4 pollici, 450x450 alla risoluzione ed è davvero bello. Ben visibile anche all'aperto e protetto da un vetro in zaffiro, tra l'altro due volte più resistente della serie Watch 4, incassonato al di sotto della cornice, così da evitare spiacevoli scontri contro muri o altri oggetti che potrebbero magari tendere a graffiare o rovinare lo smartwatch o comunque la visibilità del display. Ottima scelta dal punto di vista strutturale, anche perché la cassa è in titanio, quindi assolutamente uno smartwatch ultra resistente. Sono sincero, l'ho già picchiato ma purtroppo contro qualche muro, però devo dire che non si è fatto ancora niente. Scontato dirlo, ma ovviamente è rotato di certificazione contro acqua e polvere, IP68 con resistenza fino a 5 atmosfere, poi c'è una modalità dedicata per andare a far fuoriuscire l'acqua dallo speaker che altrimenti potrebbe, diciamo, permanere per troppo tempo. In questo modo si limita, diciamo, il problema anche di avere aria nello speaker, quindi avere un aio distorto durante la riproduzione musicale o di voce. Per gli amanti della ghiera girevole non preoccupatevi, non è presente fisicamente ma è comunque implementata via software. Basta infatti scorrere il dito sul bordo interno per scorrere rapidamente pannelli, voci o menu. Indubbiamente preferivo la soluzione fisica, però meglio che niente. Sempre nell'estetica gli aspetti più divisivi possono essere lo spessore 10,5 mm e il peso pari a 46 grammi. Insomma, è un prodotto impegnativo e che sul polso ovviamente si fa un po' sentire. Devo dire che ci ho fatto l'abitudine, io non sono un amante degli smartwatch o degli orologi in genere, lui si fa sentire, non è come Google Pixel Watch che è quasi come una smartband, però devo dire che non è nemmeno così poco confortevole, anzi tutt'altro. E il cinturino è realizzato in gomma ed è davvero molto carina la regolazione perché può essere fatta davvero al millimetro scorrendo questa fibbia. Non siamo così obbligati a seguire i forellini che a volte su alcune persone possono essere o troppo larghi o troppo stretti. Sul fianco destro poi ha due pulsanti per l'interazione diciamo fisica, la doppia pressione e la pressione prolungata sono diciamo programmabili via software dall'applicazione e di default ad esempio c'è Bixby per quello superiore, io ovviamente ho già messo Google Assistant e qualora abbiate acquistato Google 5 o lo acquisterete, sappiate che non subito è compatibile Google Assistant. Per farlo è necessario seguire una piccola guida un po' furbetta che vi lascio linkata in descrizione che abbiamo realizzato proprio appositamente. E prima di addentrarci all'interno dello smartwatch vi parlo di connettività. Lui supporta Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS e poi c'è anche una versione LTE che può essere configurata tramite i SIM tramite appunto l'applicazione. Tutta la parte di connettività funziona assolutamente bene, si possono collegare delle cuffiette, lo smartphone contemporaneamente, un altro dispositivo ancora contemporaneamente, fa partire la musica da qui e sentirla sulle cuffiette eccetera eccetera. Insomma qui una conferma, una solida conferma rispetto al passato. All'interno invece troviamo tutti i sensori che si possono poi pensare per uno smartwatch compresi i componenti di base come accelerometro, giroscopio, barometro ma anche sensori cardiaci ottici ed elettrici oltre alla BIA Body Composition Analysis. Quest'ultima è introdotta con il Galaxy Watch 4 che ritrovo con piacere su questo Watch 5. Dico con piacere perché comunque ci offre uno spaccato della nostra composizione corporea che ha un certo grado di errore ma devo dire che anche misurandolo a confronto con dei misuratori professionali il risultato che propone non è assolutamente male. Certo se lo volete utilizzare per andare a misurare e rilevare le discrepanze, le differenze tra diciamo periodi di allenamento diversi ecco in quel caso non so quanto possa aiutarvi. Tra l'altro rimanendo su questo tema può, non può fare, all'interno c'è anche un sensore di temperatura e questa è un po' la principale novità di questo Watch 5. Sensore che però al momento sembra non essere utilizzato, inizialmente probabilmente verrà utilizzato per diciamo darci un ulteriore dato nella rilevazione del sonno, sicuramente non ci rileverà la temperatura corporea perché sul polso ovviamente è particolarmente difficile, potrebbe darci un'indicazione un po' come avviene su Apple Watch della differenza di temperatura nel tempo ovviamente in base alla nostra temperatura media, ovvero la temperatura media del polso. Poi all'interno il processore è l'Exynos W920 Dual Core con 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, per cui volendo si possono caricare e memorizzare foto e musica. Ecco, qui avrei preferito qualcosina in più di GB di memoria RAM perché, diciamolo, non è proprio super super reattivo e la One UI anche qui diciamo che ci mette del suo. E quindi parliamo di software, già vi ho spoilerato l'interfaccia grafica Samsung One UI su base Android o meglio Wear OS 3, che potrebbe in futuro diciamo a breve essere aggiornato anche a Wear OS 3.5 e quindi raggiungere il Pixel Watch. Si tratta del solito mix tra Android e Tizen che è assolutamente promosso a pieni voti. Se avete posseduto un Galaxy Watch 4 non ci sono sostanziali differenze su questo aspetto, le gesture sono le classiche, quindi swipe dal basso verso l'alto per accedere alla lista delle applicazioni, fra cui tra l'altro è presente il Play Store per installare nuove app, swipe dall'alto verso il basso per accedere ai collegamenti rapidi, swipe laterale per accedere alle notifiche sul lato sinistro e ai pannelli rapidi sul lato destro, ovviamente personalizzabili. Scorrendo le varie voci possiamo poi evidenziare quali sono le funzionalità e oltre alla BIA può misurare ovviamente il sonno, può darci un'indicazione della pressione arteriosa, ci può fare tra l'altro un ECG e ovviamente rilevare il battito cardiaco H24, darci un'indicazione dello stress e anche dell'ossigenazione del sangue. Ora, alcune di queste funzionalità, pressione arteriosa, ECG, sono assolutamente esclusiva e funzionanti solamente se avete uno smartphone Samsung, altrimenti vi saranno precluse. Questo perché è necessaria un'applicazione ulteriore da scaricare sulle Galaxy Apps che si chiama Samsung Health Monitor e che diciamo va ad abilitare queste funzionalità e purtroppo sono disponibili solo con uno smartphone Samsung. Tutto il resto però è assolutamente funzionante, quindi ci sono le notifiche che arrivano tra l'altro in tempo reale, istantaneamente, possiamo rispondere a queste notifiche, possiamo ovviamente archiviarle e insomma interagirci, tra l'altro leggere le notifiche complete, quindi se ci arriva un messaggio Telegram piuttosto che una mail possiamo scorrerla assolutamente in toto. Non che sia bellissimo, facilissimo da leggere su questo schermo, non così grande, però comunque si può fare. Così come si può utilizzare Bixby o ancora meglio Google Assistant per fargli domande come il meteo di domani oppure inviare un messaggio su WhatsApp, purtroppo ancora non è possibile farlo attraverso Telegram, e così è possibile anche accedere alle modalità sportive che su questo Watch 5 e 5 Pro sono più di 90, sono davvero tantissime, comprendono ad esempio anche lo yoga e tantissimi sport che nemmeno conoscevo. Peccato che non ci sia il mio sport preferito, ovvero il wakeboard, che ancora non c'è, peccato. Scherzi a parte c'è balli da sala, ballo, baseball, basket, beach volley, bowling, box, calcio, canoa, canottaggio e tanti tanti altri. E tra l'altro c'è anche una ulteriore novità, ovvero la possibilità di inserire degli itinerari GPX da seguire direttamente sullo smartwatch, quindi questo potete lasciarlo in macchina oppure direttamente a casa e utilizzare solamente lo smartwatch e il GPS ovviamente integrato per seguire l'itinerario. Ovviamente vi consiglio sempre di avere uno smartphone dietro perché è sempre meglio così, però è una possibilità in più. Detto ciò, come funziona Galaxy Watch 5 Pro? Beh, partiamo dal software dove qualche laghettino, quella c'è, però devo dire che è assolutamente super funzionante, cioè il problema dei lag è davvero minimale e residuale, una cosa che si può risolvere probabilmente con un po' più di RAM, speriamo che l'anno prossimo adottino questa scelta, oppure magari anche con un aggiornamento software. Per quanto riguarda invece i valori registrati dai vari sensori cardiaci eccetera, siamo su un margine d'errore molto molto basso, quindi come efficacia della misurazione io lo vado a confrontare, a paragonare molto a Apple. Dunque uno smartwatch che può assolutamente aiutarvi se siete degli sportivi a metà o comunque volete diventare più sportivi, sicuramente lui ha un aiuto, vi dà qualche informazione in più, vi dà dei dettagli e soprattutto vi crea anche un po' di stimola, un po' a continuare, sicuramente non è un oggetto iperprofessionale. Non è iperprofessionale anche perché ovviamente lui è un po' più orientato non allo sportwatch, al mondo degli sportwatch, ma al mondo degli smartwatch. Tutte queste rilevazioni poi sono disponibili su due applicazioni, Samsung Health Monitor, come dicevo disponibile solo per i Samsung, per quanto riguarda la pressione arteriosa tra l'altro deve essere diciamo calibrato con un dispositivo professionale per essere utilizzata questa funzionalità e ovviamente l'ECG. Mentre per quanto riguarda tutti gli altri valori, quindi quelli prettamente un pochettino più riguardanti la salute, il benessere psicofisico, abbiamo l'applicazione Samsung Health che graficamente è fatta molto bene, facilmente navigabile, abbiamo ovviamente l'indicazione dei passi, se abbiamo raggiunto gli obiettivi, l'attività giornaliera e ovviamente qualche statistica in più riguardo il sonno e l'ossigenazione del sangue. Ovviamente abbiamo anche un indicatore dello stress, ma soprattutto abbiamo anche il dato un po' più dettagliato e spiegato bene della composizione corporea, dove possiamo vedere il peso, massa muscolare, massa grassa, BMI, acqua corporea eccetera. Insomma un'applicazione comunque fatta bene, ma per chi ha già avuto lo smartwatch Samsung già la conosce. Chiudo riguardo il GPS, ovviamente al chiuso fa un po' di difficoltà, ma non appena andata l'aperto 15-30 secondi e il segnale viene agganciato, quindi assolutamente efficace da questo punto di vista. molto efficace poi anche la batteria che mi ha assolutamente soddisfatto. 590 mAh al suo interno che permettono di fare 3 giorni pieni di utilizzo ed è assolutamente gratificante poter utilizzare così a lungo uno smartwatch così avanzato. Ci sono tanti smartwatch in circolazione, banalmente Huawei Watch GT, che possono fare anche una settimana, anche 10 giorni di autonomia, ma hanno un software diverso, ricordiamocelo, hanno componenti diverse. Lui è un po' più completo, un po' più avanzato e quindi ovviamente con Android la batteria dura un po' di meno. Detto ciò, questa è la versione Bluetooth, quindi quella LTE secondo me non andrà oltre una giornata e mezzo di utilizzo, però purtroppo non ho potuto testarla. Detto ciò, grande notizia i prezzi. Come ho detto a inizio video, infatti su Amazon sono già disponibili, lui ad esempio parte da 499 euro di listino, oggi si trova intorno ai 370 euro. Assolutamente un prezzo molto più concorrenziale e competitivo e accattivante direi, perché anche i Watch 5 nel frattempo stanno scendendo di prezzo un po' meno rispetto al Watch 5 Pro, ma se volete provare per la prima volta uno smartwatch vi consiglio di puntare direttamente ai Watch 4 dello scorso anno che secondo me sono ancora super ottimi, tra l'altro il Watch 4 è una piuma, non si direte nemmeno al polso, mi è piaciuto tantissimo e tra l'altro ora costa davvero pochissimo. 140 euro che per uno smartwatch con Android è quasi praticamente regalato, ma questa era la mia opinione su Watch 5 Pro e sugli smartwatch e Samsung in generale. Ora sono preso di sapere la vostra all'interno dei commenti, anzi se avete un Watch 5 Pro, un Watch 5, un Watch 4, fatemi sapere la vostra all'interno dei commenti. Sono assolutamente curioso al riguardo, anche perché il mercato wearable è un po' poco in movimento, ma prossimamente parleremo anche di Google Pixel Watch. Per ora è tutto, un saluto da Michael per Android.net.